Il Bari per parlare della favorita del girone esce rafforzato dalla compagna acquisti come altre squadre compresa la Ternana, insomma non si sono risparmiate, anche il Palermo però si è mosso, arriva Luperini, ti dico cosa cambia nell'immediato e quali altri colpi dobbiamo attenderci dal mercato degli svincolati? No, sarà una partita difficile quella di domani, pensavo che mi chiedesse la partita. Era la domanda successiva, andavo sull'attualità per poi andare sull'altra attualità, se è quella del campo giocato, se non vuoi rispondere passo a me. No, ma non è che non voglio rispondere, è che finalmente è finito il mercato. Noi cercavamo qualcosa, sicuramente, abbiamo preso Luperini, cercavamo qualche altra cosa ma non era facile prendere quello che cercavamo. Abbiamo una squadra oggi naturalmente in costruzione sulla quale puntiamo e poi vedremo quello che dirà il campo naturalmente, quindi ad oggi dobbiamo lavorare con questi giocatori che sono giocatori tanti di prospettiva, abbiamo qualche giocatore esperto e dobbiamo lavorare tanto affinché, ripeto, per cercare di rimanere agganciati. Il resto si vedrà poi a gennaio, qualora ce ne fosse il bisogno e la possibilità di prendere qualcun altro. Quindi, ripeto, stavamo cercando qualcos'altro, non è stato possibile farlo e andiamo avanti. Non è la prima volta che ti trovi in condizioni difficili, parlo ovviamente del momento del calcio, no? Con Lentela, per esempio, dopo l'esordio, quando sei arrivato a Chiavari, hai aspettato un mese e mezzo prima di giocare un'altra partita, ma avevi almeno all'attivo la Coppa Italia e tutto però andò bene. La storia in qualche modo si ripete, rodaggio insufficiente, una sola partita sulle gambe, avversario in palla e ambizioso. Insomma, una prova del fuoco. Che prestazione ti aspetti dal Palermo e la Ternana e che impressione ti ha fatto? Mi aspetto una prova importante dal punto di vista mentale, dell'attenzione, della concentrazione e anche dell'atteggiamento, che comunque non deve essere un atteggiamento dimesso, ma anzi, al contrario. Desidero una squadra che comunque deve sempre cercare, quando ce ne sarà la possibilità, di fare gioco e di difendersi bene. Incontriamo una squadra che è una delle candidate assieme al Bari a fare il salto di qualità. Una squadra ben allenata, piena di giocatori, parlo individualmente, forti, di categoria, giocatori molto importanti. Però noi dobbiamo andare lì con la consapevolezza dei nostri mezzi e del fatto che possiamo fare un grande risultato. È vero, siamo in costruzione, non abbiamo i 90 minuti, abbiamo fatto poche partite. Tutte le difficoltà che ho già ripetuto mille volte, siamo andati in ritiro con pochi giocatori. Siamo, ripeto, una squadra che sta provando ora, in questo periodo, in questo ultimo periodo, a essere squadra. E quindi si va lì sicuramente per fare una grande partita, consapevoli del fatto che ci aspetta e ci attende una partita molto, molto difficoltosa, difficile. Ciao Roberto, mi senti? Sì, sì, ciao. Ciao Roberto. Senti, molto velocemente, la mia prima domanda è, ti aspetti qualcosa dagli svincolati? Sì, avevo chiesto qualche altra cosa alla società e, ripeto, non è stato possibile, nonostante si sia lavorato in questo senso. C'è qualcosina, secondo me, interessante tra gli svincolati, vedremo quello che sarà lo sviluppo. Il pensiero, ripeto, è sicuramente alla partita di Terni e poi sarà all'Avillino. Però, secondo me, la società è vigile e sta vedendo se potrà accontentarmi, naturalmente, nei limiti di quelle che sono le nostre possibilità, ma anche nei limiti del fatto che spesso ci sono giocatori che magari non trovano accordo non dipende solo dalla società, non dipende solo da noi. Senti, volevo chiederti degli infortunati che avevi per domenica. Ne recuperi qualcuno per domani? Penso a Doda, a Cardi, Sant'Ana. Ma Doda e a Cardi verranno con noi, ma naturalmente sono giocatori che non abbiamo da tantissimo tempo, quindi è evidente che non hanno, diciamo, 90 minuti. Hanno lavorato pochissimo con la squadra, hanno fatto solo due allenamenti, quindi vedremo. Sant'Ana è recuperato, ma non ancora al top, quindi non partirà con noi. Però dagli ultimi esami è clinicamente guarito, quindi dal prossimo allenamento, diciamo, con la squadra sarà inserito in gruppo e disponibile. Buongiorno, mister. Le volevo chiedere, guardando anche come si sono rinforzate le altre, oggi il Palermo continua a essere una delle pretendenti per la vittoria del campionato o crede che si sia creato un dislivello tra il Palermo e le principali antagoniste per la vetta? Noi dobbiamo sempre vedere quello che dice il campo e ancora il campo, o meglio, abbiamo solo fatto una partita e quindi vedremo. Gli sviluppi, diciamo, queste cose vengono date dal campo, viene dato dal campo e quindi vedremo. Sicuramente la rosa del Bari, comunque della Ternana, sono rose importanti. Hanno anche tanti giocatori esperti, tanti cambi, quindi io non dico che noi siamo al loro livello o non siamo al loro livello, questo sarà il campo. Sulla carta sicuramente loro sono favoriti rispetto a noi, questo è in dubbio sulla carta, però c'è il campo che può capovolgere il tutto ma può confermare il tutto. A inizio stagione, quando si aspettavano i calendari, lei è stato molto sincero nel dire che non è vero che prima o poi le affronterete tutte, ma la disposizione delle partite può essere importante. Affrontare la Ternana oggi in queste condizioni immagino per voi sia uno svantaggio più che un vantaggio. Eh sì, non è vero che le affronteremo tutte, ho avuto anche ragione visto quello che è successo al Trapani, quindi con grandissimo dispiacere nei confronti del Trapani, come ben sapete. E poi in riferimento al fatto che dipende anche in che condizioni trovi gli avversari. Oggi naturalmente la Ternana è una squadra che vince fuori casa, 3-0, gioca bene, riprende a far giocare giocatori importanti, quindi rientrano da infortuni giocatori importanti come Mammarella, rientra a pieno regime Falletti, quindi sono squadre piene di talento e dobbiamo veramente stare attenti. È naturale che noi, ripeto come ho detto prima, dobbiamo cercare di andare lì e metterli in grandi difficoltà, sapendo che sarà una partita complicata. Il discorso di giocare con tutte è naturale, prima o dopo dobbiamo giocare con tutte, però a volte dico i tempi possono essere determinanti per quanto riguarda le squadre che incontri, nella forma fisica, eventuali infortuni, squalifiche, spesso, oppure l'appagamento di obiettivi raggiunti può essere determinante per una partita. Mister, buongiorno, io devo tornare nuovamente sul mercato e poi anche sulla partita, però sul mercato l'altra volta al collega che le ha fatto una domanda di cosa si aspetta al mercato, lei ha risposto in maniera bella, ha detto sì, mi aspetto qualcosa al mercato, una risposta netta. Oggi, secondo lei, su cosa bisogna intervenire, dato che lavoreremo adesso sugli svincolati, sul terzino principalmente, è questo quello su cui il Palermo sta puntando, avete altre cose in mente, al di là di Luperini? Qual è la direzione che si sta prendendo? Sì, ma lo sapete benissimo. Noi abbiamo avuto un problema ad inizio ritiro con i nostri terzini e io non ho potuto vedere niente, nessuno ad oggi, quindi secondo me era importante prendere un terzino di qualità e anche di esperienza. Questo non toglie nulla quello che abbiamo dentro perché comunque sono giocatori sicuramente importanti, alcuni anche di prospettiva, visto che sono molto giovani, però era quello che avevo chiesto, ma ripeto, la società è vigile da questo punto di vista e sta lavorando anche adesso su questo, quindi questo era quello che Luperini è arrivato e poi il mercato negli ultimi giorni, soprattutto l'ultimo giorno, a volte ti può anche regalare situazioni così importanti dal nulla e magari uno si aspetta sempre qualcosa, però ripeto, c'erano delle priorità e la maggior parte di queste sono state fatte e come per azioni dico, manca qualcosina, la società ci sta lavorando. Buongiorno mister, ben trovato, le faccio le domande velocemente, la prima anche se so che non parla dei singoli vorrei un suo pensiero su Marten, poi per quanto concerne il mercato ci torno e le chiedo a bruciapelo se è deluso o meno da quanto fatto sul mercato fino ad ora, al netto di quello ovviamente che ha detto che si aspetta qualcosa in vista degli svincolati. Marten è un giocatore del Palermo e viene considerato così, come tutti gli altri, quindi non penso niente, è un giocatore che può giocare in determinate situazioni e in determinati ruoli così come gli altri, quindi non penso niente di più e niente di meno. Per quanto riguarda se sono deluso dal mercato ti dico che comunque la maggior parte delle cose che dobbiamo fare sono state fatte, come ho detto prima manca qualcosina, ma lo sapevamo, lo sa anche la società, però vi dico anche che non è semplice andare a prendere giocatori per il nostro gruppo, che vengono a Palermo con grandissimo entusiasmo, non è facile nonostante gli sforzi che si stanno facendo. Sicuramente come ho detto prima manca qualcosina, lo sa anche la società, però ripeto come ho detto già almeno dieci volte oggi, da quel punto di vista, in quel ruolo che ho già citato prima, si sta lavorando. Salve mister, lei poco fa parlava di un terzino, al Mici può essere il rinforzo ideale? Poi le volevo chiedere di Luperini per entrare in forma di quanto tempo necessita, grazie. Ma al Mici è un ottimo giocatore, un giocatore esperto, quindi un giocatore, un ottimo giocatore per la categoria, poi visto che comunque ho quasi sempre fatto categorie superiori, è importante. Come tutti i giocatori naturalmente per avere una forma importante di Luperini, così come tanti giocatori bisogna attenderlo, bisogna aspettare, è da tanto che non gioca, quindi non ha fatto ritiro, si è allenato da solo, quindi è normale che ci voglia almeno un mese, non per giocare, non per essere disponibile, lui sarà disponibile prima, però per averlo in una condizione importante, non prima di tre o quattro settimane secondo me, però in quel frattempo comunque lui sarà con noi, giocherà anche con noi, però non ci dobbiamo subito aspettare che sia a mille. Ma così come è successo per tanti altri giocatori che oggi stanno incominciando a lavorare in un certo modo, vedi Bro, vedi Somma, vedi OGR, ma tanti altri giocatori comunque. Rauti stesso che è arrivato ultimamente. Sono tutte situazioni che sono in divenire, nel senso che comunque la condizione la prendi allenandoti sicuramente, ma soprattutto facendo le partite. Noi ad oggi abbiamo fatto solo una partita. Ora da qualche giorno ci stiamo anche allenando allo stadio, fortunatamente, anche se non sarà possibile proseguire, però abbiamo un po' di misure diverse, quindi misure giuste del campo, lavorare in erba naturale, quindi abbiamo, ripeto, la possibilità di incrementare ancora un po' di più il nostro lavoro. Ciao Roberto. Ciao Gio. Due cose al volo. Hai fatto riferimento al mese che serve per portare in condizione Luperini, nel caso specifico ti chiedo a che punto sono OGR che hai citato e Canutè che a Teramo non è sembrato brillantissimo. E poi io insisto, Teramo-Bari, tu magari non gli dai tutta questa importanza, però secondo me il pareggio del Teramo-Bari dice molto. Per il Teramo e anche dà, secondo me, un peso diverso alla sconfitta, all'esordio col Palermo, perché magari tutti si aspettavano a Teramo, a squadretta, così, invece il fatto che abbia fermato pure il Bari, lo squadrone, testimonia che il Palermo non ha affrontato una squadra di basso rango, ecco, diafoniamola così. No, per quanto riguarda OGR e Canutè, sono due giocatori che naturalmente sono arrivati in ritardo e hanno bisogno di lavorare, un po' come tutti gli altri, ma anche adesso chi arriva dagli infortuni, ha bisogno di lavorare, ha bisogno di mettersi in moto, come si suol dire, quindi stanno già bene, però devono naturalmente prendere condizioni, ma un po' come tutti quanti, come abbiamo già detto. Per quanto riguarda il Teramo, io anche la scorsa volta non ho detto che è il Teramo, io ho solo detto che non c'è bisogno di guardare Bari-Teramo per capire chi è il Teramo, comunque la partita che noi abbiamo fatto a Teramo, perché si vedeva che il Teramo era superiore a noi, fisicamente soprattutto, quindi non c'era bisogno che guardassi la partita Bari-Teramo per capire che il Teramo è un'ottima squadra, avevo solo detto questo, poi va a pareggiare a Bari, poi vedi anche la partita, il Bari ha anche sbagliato tanto, nel senso che, però ripeto, non c'era bisogno di vedere quella partita per capire che noi comunque avevamo fatto una discreta partita con degli errori, ma il Teramo è una squadra già in condizione importante di campionato, quindi avevo detto solo questo. Poi il risultato tra virgolette mi ha dato anche ragione, ma ripeto, non c'era bisogno.